Amici sportivi, appassionati di calcio, anche questa sera puntuali. Siamo qui insieme per raccontarvi notizie, approfondimenti, cronaca che riguarda lo sport dilettantistico di casa nostra. Questa sera puntata dedicata al campionato di prima categoria. Facciamo un tuffo nel girone D insieme al direttore sportivo del Bertone Bolzano Vicentino, Antonio Barci. Buonasera direttore. Ciao Alex, grazie dell'invito e buona serata a tutti. Ritroviamo con piacere il direttore che era stato qui da noi qualche mese fa per fare il punto della situazione, cercare di andare ad analizzare cosa è successo e come vanno le cose in prima categoria nel girone D. Ma parleremo anche del settore giovanile del Bertone Bolzano, quindi una puntata da seguire fino alla fine. Direttore, ritorno in campo dopo la sosta, dopo il rinvio della ripartenza dei campionati, è arrivata una sconfitta con il BP93, ma bisogna dire, guardando la classifica, che le cose stanno andando comunque molto bene. meno 4 dalla vetta, occupata attualmente dal Sumani a 29 punti, il Bertone Bolzano ne ha 25. Intanto, com'è andata domenica? Beh, sicuramente non abbiamo fatto una buona prestazione, dopo c'è sempre quell'area di derby che comunque va oltre anche alla partita di per sé, che viene disputata e rammarico comunque di avere così fallito un calcio di rigore alla metà del secondo tempo, che per noi poteva essere anche una svolta decisiva, però dobbiamo cercare di usare l'intelligenza che abbiamo come gruppo, come ragazzi, perché insomma è una sconfitta che lascia tanto di amaro in bocca, però insomma... La stagione è ancora lunga, ci sono ancora tante partite. A proposito del ritorno in campo di domenica, direttore, com'è stato dal punto di vista, al di là del risultato del calcio espresso, della condizione fisica dei ragazzi? Perché sono tante le società che ci dicono che, insomma, inevitabilmente, questi quasi due mesi, insomma, di assenza dal campo, di solo allenamenti, ma nessuna partita con in palio i tre punti, abbia un pochino condizionato sotto l'aspetto mentale e fisico. Invece, come ha visto la tua squadra? Allora, noi comunque abbiamo, dai primi di dicembre abbiamo, non per nulla comunque, veniamo nelle ultime quattro partite, tre del giorno di andata e la prima di ritorno, quattro partite, tre sconfitte e una vittoria. E dai primi di dicembre abbiamo avuto parecchi casi Covid, per carità non è solo Alberto Mbolzano, ma in comune mezzo gaudio, se vogliamo dirlo, però per noi è stato abbastanza impegnativo, perché dai primi di dicembre fino alla metà di gennaio, dopo, con il problema del ritorno all'attività agonistica, visite mediche, appunto studi medici che sono intasati, che non riescono ad evadere le richieste, diciamo abbiamo ripreso gli allenamenti al 10 di gennaio e ci siamo trovati comunque fino alla fine di gennaio con metà giocatori disponibili e questo sicuramente ha pesato e peserà anche prossimamente, perché non è che nel giro di una settimana il problema si risolve. Quindi insomma, verosimilmente bisogna stringere un attimino i denti adesso, cercare di fare il meglio possibile, quando è che anche a livello proprio fisico, anche a livello di calcio espresso, secondo te al di là del Berton Bolzano, ma parliamo un po' in generale, in prima categoria, si vedranno veramente le reali forze in campo? Ma credo che comunque bisogna arrivare ai primi di marzo, insomma, per trovare una condizione di ripresa, proprio dettata anche da quanto ho detto prima, e qua sicuramente il fatto di avere spostato appunto fino a prima il 30, dopo il 13, magari se ci fosse stato uno slittamento magari ulteriore, sarebbe stato più opportuno dal mio punto di vista, dopo di che insomma un po' la voglia di tornare in campo e via, va bene anche il 13 di febbraio. Avere un direttore sportivo ospite in trasmissione implica automaticamente anche parlare un attimo di mercato, vogliamo riassumere un attimino quelli che sono i movimenti in casa Berton Bolzano, e poi direttore ti chiedo delle avversarie, delle squadre che sono lì davanti, Sumagna, Gran Torto, Dueville, c'è l'Azzurra Sandrigo subito sotto, la Virtus Romano, quale secondo te si è rinforzata di più nel mercato? Partiamo però dal Berton. Sì, noi a dicembre abbiamo cercato un po' di rinforzare, per quanto sarà positivo chiaramente il tutto, con l'inserimento di Arcaro, una punta che ha sempre fatto bene in prima categoria, e dopo abbiamo anche in prestito dal Dueville Bortoli, Omar Bortoli, un ragazzo, un 2001, un ragazzo interessante che comunque sta dimostrando di avere anche comunque il passo giusto, e dopo abbiamo avuto un ritorno di Pietro Pasqualini, un ragazzo che c'era l'anno scorso, che dopo ha dovuto smettere un po' per problemi di lavoro, di orari, e adesso ha cambiato lavoro, ha disponibilità di allenarsi, è di proprietà del Montecchio Maggiore, per cui un ulteriore valore aggiunto che sicuramente... Farà comodo durante la stagione. Certo, insomma. Le avversarie, secondo te, direttore, è quella che si è rinforzata di più? Allora, da quello che chiaramente sono in grado di sapere, perché non è che... Ma credo comunque che il Gran Torto ha fatto, al di là delle partenze che ci sono state, ma ci sono stati anche degli arrivi importanti, per cui dal mio punto di vista il Gran Torto sarà la squadra che avrà sicuramente maggior percentuale per ambire il passaggio di categoria. Sumania chiaramente è una squadra che ha delle grossissime potenzialità, non lo possiamo nascondere, e comunque lì davanti due ville e anche la Virtus Romano sono squadre che sono lì, siamo lì anche noi in compagnia, per cui cercheremo le prossime 12 partite che possano diventare 12 partite ogni domenica con un obiettivo ben preciso. 12 finali, come si suol dire. Sì. Direttore, ma magari le persone che ci seguono, e vi ringrazio, ne approfitto, perché siete sempre più numerosi, non conoscono proprio benissimo, non tutti, insomma, la composizione dei vari gironi, eccetera, ma vogliamo dire una cosa, che questa prima categoria, questo Girone D, è veramente tanto competitivo. Ci sono squadre, lo abbiamo raccontato anche quando è venuto l'altra volta il direttore, squadre che hanno una grande tradizione, squadre che hanno un grande potenziale, insomma, voglio dire, l'Azzurra Sanerigo, la Virtus Romano, abbiamo detto il Due Ville, il Gran Torto, il Sumania, il Berton Bolzano, cioè, è un campionato tanto equilibrato, infatti, insomma, nella parte alta della classifica siete tutte quante lì, più o meno. Sì, basta anche guardare i punti, no? I punti del prima del nostro Girone, in altri gironi, magari con 29 punti, ci sono squadre che sono al terzo, quarto, anche posto, insomma, per cui, questo livellamento che c'è, è un livellamento proprio dato dalle forze che ci sono, e io l'ho sempre definito fin dall'inizio, uno dei gironi più impegnativi, impegnativi, proprio per gli aspetti che hai accennato prima, insomma. Sicuramente. Dopodiché, insomma, siamo qua, noi siamo partiti per, così, fare un campionato tranquillo, dopo, siamo stati bravi ad organizzarci, e puntiamo comunque, finché la classifica ci darà il conforto, di essere lì, sempre, di giocarsi, su un pezzo, come si suol dire. Assolutamente, le potenzialità, il Berton Bolzano, Vicentino, le ha assolutamente tutte, per correre fino alla fine, parlavamo prima, insomma, di andare in onda, con il direttore Barci, anche di settore giovanile, e di una protesta, che è andata in scena, durante questo weekend, a cui hanno aderito, tante società, si tratta di una protesta, ma più che altro, di un messaggio, che queste società, hanno voluto lanciare, il messaggio, è quello, insomma, di non negare, la possibilità, agli under 12, sprovvisti, di super green pass, di giocare a calcio, quindi, di non tenere fermi, insomma, quei bambini, quei ragazzi, solo per, appunto, una mera questione, legata al possesso, o meno, del green pass, un punto di vista, che ha sposato, l'approvazione, ha trovato l'approvazione, di tante società, che sono scese in campo, pitturandosi, il volto, con il numero 1, e il numero 2, a comporre il numero 12, proprio in segno, di solidarietà, di vicinanza, ai giovani, agli under 12, agli esclusi, insomma, per un calcio, che vuole essere inclusivo, questa è sicuramente, una situazione, un po', difficile, anche da far capire, ai bambini, ai ragazzini stessi, il tuo punto di vista, su questo direttore? Beh, sicuramente, un grosso problema, perché, come hai accennato, Alex, è difficile andare a spiegare, a un ragazzino, di 12, 13, 14 anni, che non possono continuare, l'attività, sportiva, per questa situazione, con questo, non voglio, fare, così, demagogia, per quanto riguarda, il discorso, virus, per carità, non sono competenti, in materia, e di conseguenza, dico solo che, parlando di sport all'aperto, parlando che, comunque, tutte le cose, che abbiamo sentito, fino adesso, ritengo, ritengo veramente, eccessivo, allora, si potrebbe trovare, una soluzione, secondo il mio punto di vista, far praticare loro, l'attività all'aperto, gli allenamenti, senza l'uso, degli spogliatoi, delle docce, e questo, sicuramente, potrebbe essere, un fatto importante, insomma. Assolutamente, anche la federazione, insomma, si è presa a cuore, diciamo, questa, questa questione, quindi si attendono sviluppi, noi comunque vi terremo, assolutamente, sempre, aggiornati, parlando del settore, giovanile, del Berton Bolzano, invece, in generale, facciamo un piccolo bilancio, come stanno andando le cose? Beh, diciamo, bene, insomma, dai, anche perché, veniamo da, da una situazione, proprio, dove siamo stati, falcidiati, in maniera spaventosa, e abbiamo cercato, durante l'estate, appunto, di mettere insieme, un po' di numeri, fra virgolette, come si suol dire, e, vabbè, con soddisfazione, insomma, abbiamo la squadra, dei giovanissimi, che partecipa, adesso, in primavera, il gerone di elite, per cui, insomma, lì, è già un buon risultato, no? Pulcini, abbiamo un bel gruppo di pulcini, una ventina di ragazzi, primi calci, sono 18, 17, e piccoli amici, che sono una decina, e, su questo, chiaro che, non sono numeri, che ti danno, delle opportunità, di, di programmare, di lavorare, in prospettiva, stiamo cercando, di trovare, una forma di collaborazione, una fusione, soprattutto, con, una società, con termine, a noi, e, speriamo, insomma, che questo possa essere, motivo, appunto, di, 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 di trovare, cioè, numeri, per dire, l'anno prossimo, con 150 ragazzi, è ben diverso, insomma. Insomma, è un obiettivo sicuramente, ambizioso, il direttore ci racconterà, se può andare tutto a buon fine, viene qua e ci racconta, di questa, sicuramente, di questa fusione, di questa nuova opportunità, per i bambini, per i ragazzi, per i giovani, siamo arrivati, alla fine, di questa nostra, chiacchierata, sempre piacevole, con il direttore sportivo, Antonio Barci, del, Berton Bolzano Vicentino, noi continueremo, a seguire da vicino, anche il campionato, di prima categoria, lo sapete, direttore, grazie per essere stato con noi, grazie a te, ve l'invito, allora, a presto, l'appuntamento con voi, invece, è a domani sera, poco prima delle 20, sempre con Sport in Casa, sempre su Rete Veneta, Grazie a tutti, Grazie a tutti, Grazie a tutti.